Un rottame d'aereo in fondo al mare e un corpo umano visibile al suo interno. E' ciò che resta del piccolo Piper Malibu, scomparso due settimane fa con a bordo del calciatore argentino ad origine italiana Emiliano Sala, in via di trasferimento dal Nantes al Cardiff, e il pilota David Ibbotsen. A pronunciare la sentenza è stato l'occhio di un robo sottomarino teleguidato a distanza, 40 chilometri a largo dell'isola di Gertsey, da un team di soccorritori della società privata olandese Geo X, la stessa che a suo tempo aveva partecipato alle operazioni di recupero della costa Concordia. Difficile da descrivere quello che abbiamo trovato, è un relitto, non è devastato in tanti pezzi su di un campo di calcio, ma è un relitto, dice uno dei membri del gruppo privato che ha scoperto il relitto, malgrado il fatto che le autorità britanniche avessero deciso di sospendere le ricerche. Adesso si potrà forse dare sepoltura al giocatore, anche se manca sempre un secondo corpo all'appello, visto che a bordo c'erano almeno due persone, un passeggero e il pilota. Ma si potrà forse anche scoprire come un aereo che apparentemente non aveva i requisiti abbia potuto alzarsi in volo d'inverno, di sera e con pessime condizioni atmosferiche. A Nantes, Salah era diventato in quattro anni un idolo a Swan de Gaulle. Era atteso a Cardiff come colpo di mercato di dicembre dopo essere stato rilevato dal club francese per 17 milioni e come promessa di quel salto di qualità mai realizzato appieno nella Premier League inglese dalle squadre gallesi.